Inaugurazione oggi dello studio odontoiatrico Granata d'Archivio. Abbiamo qui il dottor Giorgio d'Archivio. Come è nata questa iniziativa qui a Giulianova? Questa iniziativa è nata da una conoscenza che avevamo già io e il dottor Granata. Io lo conoscevo come persona, l'ho conosciuto come professionista, per cui abbiamo deciso insieme di aprire un centro a Giulianova che unisse la sua esperienza, la mia voglia di fare, alle nuove tecnologie, per cui abbiamo creato questo centro per cercare di portare a Giulianova un odontoiatria di qualità e di esperienza e abbiamo tanta voglia di fare bene in questo studio. Dottor Stefano Granata, una struttura all'avanguardia questa. Quali sono gli obiettivi che vi prefiggete? Beh, come diceva Giorgio, noi vogliamo unire la nostra esperienza alle nuove tecnologie. In particolar modo ci prefiggiamo di eseguire in questo studio tantissime cose che sono moderne. In particolar modo utilizziamo la previsualizzazione del sorriso, utilizziamo l'impronta digitale, utilizziamo la chirurgia guidata che sono tre frontiere nuove dell'odontoiatria. Quindi il nostro obiettivo è quello di avere intanto l'esperienza di tanti anni di lavoro unita alla conoscenza e alla motivazione che Giorgio ha in questo ambito e alla mia esperienza anche in questo ambito digitale perché ci teniamo particolarmente a far bene e a dare i migliori risultati per i nostri pazienti.